Ora, sicuramente l'anticampo magnetico significa che chi è l'utopista può andare all'anticampo magnetico perché lui è per l'anticorpo metaforico, mi sta sentendo, lui può dare la telespedizione, quindi lui è per la profondità oftalmica, solamente lui ci può dire in politica, perché lui è politico, lui è proprio astrattivo, lui è l'individuo, certo, dell'individuo come ha fatto? Se non è filosofo non ci puoi dire mai in anatomia, che è solamente per l'effusione anatomica se arriva all'accessione anatomica, che significa che lui è per l'effusione a catena, l'uomo è una bomba, già nasce una bomba, quindi basta copiare la propria bomba, già viene fuori la bomba, la ti diventerà la bomba logica, quindi non è una scrittura all'uomo.